Sono Simone di BikeLife Io sono qui a vostra disposizione per tutti i problemi che vi può dare la vostra bici, qualsiasi tipo di bici, quindi che sia da bikepacking, gravel o MTB in strada, comunque tutti i mezzi che avete vi portano in giro e vi fanno divertire, mi trovate per qualsiasi cosa. Grazie Grazie